In questo video come fargli sentire la tua mancanza, pensare a te, desiderarti in tre passaggi. Allora, se vuoi far sentire la tua mancanza a un uomo, se vuoi farti desiderare, se vuoi colpirlo, tra virgolette, con il tuo fascino, il tuo charm, devi appunto esercitare fascino, esercitare charm, cara malgacione. Prima di tutto però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Teramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ovviamente su tutti i miei canali YouTube, ai quali ti invito a attivare la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. E veniamo, veniamo dunque al tema, veniamo dunque al tema. Come fargli sentire la tua mancanza? Pensare a te, desiderarti in tre passaggi. Allora, se vuoi far sentire la tua mancanza a un uomo, devi imparare tre segreti per farlo pensare a te e fargli sentire la tua mancanza perché sarà inevitabile che ti pensi o ti cerchi se segui questi consigli che sono consigli che danno di tre passaggi perché tre è un numero non a caso perché un uomo è formato, la mente di un uomo è formata da tre parti che sono più scisse, diciamo così, rispetto alle donne nel senso che ovviamente il nostro cervello è di fatto triadico il nostro cervello ha tre parti fondamentali ovviamente poi di fatto esattamente il nostro cervello non è che lo conosce bene ancora nessuno, diciamo questo che questa è un'altra cosa fondamentale perché il cervello umano è totalmente conosciuto, diciamo, non lo è però alcune cose si sanno e il nostro cervello fondamentalmente ha tre parti una parte che possiamo definire il cervello rettiliano che è formato dal midollo allungato e dall'arina encefalo il cervello mammagliano che è la parte mammifera che condividiamo con i mammiferi diciamo che il cervello rettiliano è quello che condividiamo con i rettili perché noi siamo stati rettili che ci piaccia o che non ci piaccia cioè l'essere umano come, diciamo, è il prodotto dell'universo fondamentalmente di evoluzioni, poi ognuno dà la sua spiegazione però abbiamo una parte di cervello che è rettiliano che non c'entra con i rettiliani, diciamo, provenienti da altri mondi, altri pianeti ma poi abbiamo una parte di cervello mammagliano che condividiamo con i mammiferi l'amigdala, l'ipotalamo e una parte di cervello che invece è praticamente esclusivamente umano che è la neocortex che è quella parte di cervello che sottende sia la creatività, la parte destra sia la logica, la razionalità, la parte sinistra quindi quando, ecco, nelle donne anche ci sono questi tre cervelli ma sono un po' più uniti i più integrati, diciamo da un punto di vista sentimentale-affettivo e parlo proprio dell'operatività da un punto di vista sentimentale quando dobbiamo interagire con quando dobbiamo interagire con, diciamo, nei rapporti sentimentali-affettivi nell'uomo il cervello rettiliano che sottende al sesso fondamentalmente e anche all'aggressività ma poi principalmente nei rapporti di coppia ovviamente al sesso, alla sessualità è escisso dagli altri cioè per un uomo fare sesso e sesso per una donna c'è più implicazione col cervello mamagliano c'è più interdipendenza cioè con la parte legata ai sentimenti una donna fa sesso anche senza provare sentimenti naturalmente ma è più probabile che scattino sentimenti assieme alla sessualità e anche il conseguente impegno perché la parte, la neocortecia, la parte logico-razionale, diciamo sottende poi all'impegno, a voler realizzare qualcosa un progetto, è progettuale, un progetto di vita ecco quindi che abbiamo queste caratteristiche mentre nel maschio il maschio sono abbastanza scisse un uomo può che ne so trombarsi una poi prendersi un impegno matrimonio con un'altra con la quale non tromba o tromba poco e viversi magari il pathos, l'emotività con un'altra ancora per dire, no? una donna è più difficile che questo avvenga sono più uniti quindi se tu vuoi essere una donna che fa sentire la mancanza a un uomo che fa sì che quest'uomo ti pensi che fa sì che quest'uomo ti desideri devi fare tre passaggi che vanno a interessare tutti e tre i cervelli in modo tale che diciamo tutte e tre i cervelli siano interessati da te cioè devi piacere sia a un livello istintivo sia a un livello emotivo sia a un livello logico-razionale quindi per primo o per primo insomma o comunque la parte logica è quella che metti in atto i meccanismi di difesa i meccanismi di rifiuto se tu ti presenti come una zoccolona da corsa come ho detto in tanti video non piacerai alla parte non piacerai alla parte istintiva piacerai non piacerai scusate alla parte logica piacerai alla parte istintiva ma la parte istintiva ti tromberà e quindi puoi rivederci grazie e la parte emotiva sarà completamente disinteressata mentre la parte logica ti squalificherà mentre invece se ti presenti come una donna tutto lavoro casa e chiesa piacerai molto la parte logica ma la parte emotiva sarà sempre indifferente e la parte istintiva ti rifiuterà abbastanza se sei un cesto diciamo mentre invece quello che devi fare è valorizzare te stessa da tanti punti di vista da un punto di vista emotivo per dare emozioni condividere la femminilità in modo tale che la parte istintiva sia tratta e poi la parte emotiva perché si coinvolge perché la parte istintiva è attratta e se tu rifiuti la parte emotiva si aggancia perché le rifiuti un'emozione rifiuti parzialmente non totalmente e se nello stesso tempo ti presenti come una donna di valore una donna di successo devi esserlo perché se sei la sciampista è quella non è che piace molto la parte logica la parte logica va alla ricerca di una donna realizzata diciamo la verità anche la parte logica delle donne va alla ricerca di un uomo diciamo realizzata e di successo e poi talvolta prende sopravento quella emotiva per cui da un punto di vista logico magari una donna va alla ricerca di un uomo affermata di successo e poi si innamora di uno pieno di problemi però spesso questo non accade per cui adesso intanto tu se vuoi essere un uomo devi farti vedere in questo modo quindi come fai a farti vedere in questo modo beh per diciamo piacere alla parte logica devi essere di successo una donna indipendente di successo mettere in atto un po' di strategia della PNL cioè ricalcare le cose che dice ricalcare le cose che fa utilizzare le ricalcono i suoi valori sono i tuoi valori a lui piace andare in montagna a te piace andare in montagna a lui piace che ne so qualunque cosa ti allinei ricalchi fatti in modo intelligente ovviamente non non in modo stupido in modo intelligente sempre e e questo è fondamentale questo è importante poi un'altra cosa che puoi fare che ti suggerisco di fare è diciamo e questo è anche un punto importante è essere una donna come dire femminile perché questa tizza la parte istintiva ma non innesca meccanismi di difesa e e poi perché la parte istintiva come dire vuole quindi valorizza il tuo look il tuo abbigliamento utilizza anche un po' di profumi devi stimolare tutti i sensi quindi devi stimolare il senso visivo ma anche il senso olfattivo avere una buona attività anche il contatto deve essere un contatto morbido non rigido pensa alla femminilità come tutto quello che differenzia rispetto alla mascolinità è proprio l'antitesi della mascolinità la femminilità no e questo è davvero importante perché se tu riesci a fare questo riesci a dare di fatto i giusti stimoli riesci a dare di fatto le giuste possibilità ecco io questo ti suggerisco di farlo perché è veramente importante e poi ovviamente devi per stimolare le emozioni gradualmente rifiutarlo cioè non rifiutarlo del tutto generare dubbi deve pensare che ci siano degli antagonisti altri che ti vogliono l'ho detto in tanti video però mi piacerebbe sistematizzare proprio questo mi piacerebbe che diventasse un tuo comportamento abituale quello di riuscire a inquadrare un uomo nel modo giusto in modo tale che possa veramente coinvolgersi in modo profondo farlo innamorare in profondità bene per questo video è tutto seguimi su Instagram Massimo Tramasko ufficiale su TikTok e su tutti i miei canali YouTube e ti do appuntamento al prossimo video mi raccomando iscriviti al canale